Il tutorial numero 18 ha come obiettivo di farvi vedere come creare le viste preferite del vostro PCB. Per attivare e disattivare la visualizzazione del nostro PCB, solitamente andiamo nella finestra della gestione dei colori, dove possiamo selezionare i vari elementi interessati. Questa attività rischia di essere time consuming, soprattutto nelle situazioni in cui la utilizziamo per ricomporre le viste PCB preferite. Per velocizzare il nostro lavoro possiamo salvare le viste PCB andando a creare una sorta di diberia delle viste. Prima di tutto andiamo ad impostare in ORCAD PCB Editor il percorso da cui dovranno essere caricate le nostre viste. Dal menu Setup, User Preferences, cerchiamo tra tutte le variabili View e andiamo a selezionare la variabile View Path. Qui andiamo a inserire il percorso della nostra, diciamo, libreria delle viste. A questo punto andiamo nel menu View, Color View Save, andiamo a puntare con il Browse il percorso prescelto per le viste, indichiamo il nome della vista che andremo a creare, nel nostro caso Top View, e finalmente apriamo la finestra dei colori per comporre la nostra vista. In questo esempio andiamo a selezionare tutti gli elementi che comporranno la nostra vista Top. Top. Quindi salviamo la nostra vista. Ripetiamo la stessa operazione per creare la vista Bottom. salviamo e ancora una volta per creare la nostra vista Top Bottom. salviamo ancora una volta terminata la creazione delle viste, le troveremo immediatamente disponibili nella finestra di Visibility, elencate nel campo View e sarà sufficiente selezionarle per attivarle, avendo precedentemente salvato le nostre viste nel percorso definito, esse saranno quindi disponibili per tutte le board su cui opereremo. Grazie. Grazie a tutti